Questa era la scheda delle elezioni del Consiglio Provinciale. Hanno detto di avere riformato le province, nella realtà dei fatti abbiamo scoperto una cosa molto semplice a nostre spese, che hanno stracciato la scheda elettorale e i cittadini oggi non votano più e non scelgono più chi è Presidente o chi è Consigliere Provinciale. La stessa cosa il Governo vuole fare adesso con il Senato, continuerà a rimanere il Senato, ma i cittadini non potranno più andare a scegliere ed eleggere i senatori. Questo non è un sistema democratico ed è una buona ragione per votare no. Gli uomini liberi votano e votano no.